Però ora io, perlina cara, dopo tutto quello che vi siete detti, tutte quelle lacrime, quando vi siete separati, tutte quelle promesse, rimettere, corre il rischio di rimettere in gioco per questo gioco? Non lo so, non ti capisco tanto, come ti hai detto al posto. Sì, infatti quello anche io l'ho notato. Non ti capisco tanto, però ti rifaccio sempre alla fine la stessa domanda, perché mi metti l'ansia tu quando cominci a spiegare, ma qui e ma là. Allora, aspetti la fine del Grande Fratello per correre da Mirko? Sì o no? Sì, assolutamente sì, ma certo, è la prima cosa che si fa. Ce la siamo spagnati. Alfonso, Alfonso. Quando esco da qui penso che vedo lui. Alfonso, posso fare una domanda io? Ma correrebbe anche adesso o soltanto alla fine del Grande Fratello? Correre anche adesso, però... Puoi chiederglielo, puoi chiederglielo. Puoi chiederglielo. Come? Puoi chiederle di correre anche adesso? No, no, era soltanto... Alfonso, scusa, però non vale così, eh. O glielo si chiede o dentro o fuori. No, non capisco.